La collezione fraterna deve nascere assolutamente, come abbiamo letto e che oggi fa bene ripetere a me e a voi in Sant'Agostino, deve nascere e deve andare alla sorgente dell'amore. La collezione fraterna di cui Gesù ci ha parlato nel Vangelo, la collezione fraterna di cui qualche tempo fa anche Papa Francesco ne ha fatto oggetto in un messaggio per la Quaresima, la collezione fraterna è un vero e proprio strumento non solo di crescita spirituale per la persona che correggiamo ma anche per quelli che gli fanno notare gli errori, gli sbagli. La correzione fraterna è uno strumento di discernimento per tutti i protagonisti della correzione fraterna. Fraterna, cioè non solo correzione tra fratelli ma si fonda sulla fraternità che ha le proprie radici nel amore in Cristo e quindi nel vincolo spirituale della fede, nel vincolo spirituale del battesimo. È qualcosa di più profondo la correzione fraterna rispetto alla semplice correzione umana. Correggere da un punto di vista umano è qualcosa di bello, è qualcosa di positivo, ma la correzione fraterna è qualcosa ancora di più profondo ed è qualcosa che deve essere fatto secondo dei criteri precisi e dei criteri che sono evangelici. Noi dobbiamo amare, dobbiamo correggere, dobbiamo insegnare, dobbiamo guidare, dobbiamo illuminare, ma prima di farlo agli altri lo dobbiamo fare anche con noi stessi, sempre e solamente partendo dalla luce e dalle motivazioni che troviamo nell'Evangelo, va bene? Cioè in Gesù Cristo. Vediamo un po' quali sono questi criteri che ci fanno discernere cosa è veramente la correzione fraterna e come noi dobbiamo fare correzione fraterna. Il primo criterio che è fondamentale è per il bene dell'altro. Prima di correggere una qualsiasi persona, noi dobbiamo chiederci se lo faccio per il bene dell'altro, perché molte volte vogliamo apparire dei fratelli, ma invece, lasciatemi passare il termine, prendetelo così in maniera paradossale, noi invece siamo dei carnefici, cioè ci travestiamo da fratelli, ma siamo dei carnefici. Il passo che mi deve portare a correggere l'altro è il bene dell'altro, non il mio bene, il bene dell'altro. Il vero bene dell'altro. Quindi la prima cosa dice, perché lo faccio? È per il bene dell'altro? Oppure c'è un interesse sotto? Oppure perché con la scusa di correggere? Semmai di correggere è anche un errore vero, reale, io voglio raggiungere i miei scopi? Chi corregge, corregge con amore, con l'amore di Cristo, corregge perché l'altro non sta facendo il suo bene essenzialmente. Certamente non starà facendo da meno il bene dell'altro, ma io intervengo quando l'altro si sta distruggendo la vita, quando l'altro si sta facendo del male. Quindi correzione che ha semplicemente lo scopo di fare promuovere il bene dell'altro, ma non il mio interesse, il mio bene. Questa è la sostanza ed è il primo passo della correzione fraterna. Vogliamo ancora una volta correggerci insieme? Vi aspetto domani, sempre Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!